Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questa nuova pillola di Fire TV Stick dove oggi vorrei mostrarvi una piccola applicazione che vi permetterà in modo davvero molto semplice di conoscere qualcosa in più sulla vostra chiavetta preferita per lo streaming. Detto questo però come sempre, prima di proseguire, se vi piacciono questi contenuti potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e lasciando un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo. E di questo, naturalmente, vi ringrazio di cuore in anticipo. Ora, tornando a noi, dalla prima versione della Fire TV Stick, che ormai risale a parecchi anni fa, Amazon ha proposto nel corso del tempo diversi modelli che si differenziano tra loro sia a livello hardware ma anche a livello software, per cui alle volte, per eseguire operazioni particolari, come ad esempio installare alcune applicazioni, potrebbe essere indispensabile conoscere esattamente il modello di Fire TV Stick che stiamo utilizzando. Indagine che diventa semplicissima utilizzando una piccola applicazione che si chiama Informer che troviamo disponibile gratuitamente sull'App Store della chiavetta. Come avete visto, dopo averla cercata e installata, basterà eseguirla per ottenere tutta una serie di informazioni molto utili sulla Fire TV Stick che comprendono informazioni su processore, GPU, RAM, spazio di archiviazione interno ed eventualmente quello esterno, se ufficialmente supportato, versione del Bluetooth, Wi-Fi, eventuale collegamento via cavo, versione del sistema operativo ed infine anche supporto ai vari codec, audio e video. Il che direi che conclude anche questa breve pillola e quindi, sperando come sempre di avervi proposto qualcosa di utile, di interessante, a me non resta altro che ringraziarvi per la visione e salutarvi augurandovi anche una bellissima domenica. Ciao da Gianni!